La sentenza d'appello per il duplice omicidio dei fratelli Mattei ha stabilito 30 anni di carcere a Giuseppe Di Bello, 37 anni di Coreno Osonio, unico imputato per la morte di Pino e Amilcare Mattei, già condannato in primo grado all'ergastolo. Una decisione, quella presa dai giudici della Corte d'Assise d'Appello, che ha lasciato l'amaro in bocca a famiglia e amici. 30 anni di reclusione per l'uomo accusato di aver sparato contro i due imprenditori di Castelforte, uccisi tra il 6 e il 7 novembre del 2014 per difendere la loro cava di Coreno. Troppo pochi per i familiari delle vittime, indignati e arrabbiati per la decisione. Questa non è giustizia, ha urlato dopo la lettura del dispositivo uno dei parenti presenti insieme a un centinaio di persone. L'avvocato Ranaldi ha ribadito che il quarto uomo sulla scena del crimine non c'era. Infatti, dopo un sopralluogo nella cava ha durato ben sei ore e dopo aver misurato tempi e distanze sulla scena del crimine, c'erano, secondo il perito, solo i Mattei e il ladro di Gasolio. Ma all'uomo a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, è stato condannato a soli 30 anni, anziché all'ergastolo. Si attendono le motivazioni fra 45 giorni, in base a cui le difese dell'imputato potranno decidere se poter proporre ricorso in Cassazione.